La qualità dell'aria nell'agricura è importante. Linea H+, controsoffitti a tenuta per la salubrità ambientale. Atena, Innovative Architectural Solutions. Poliambulatorio Leonardo Agiai di Gruaro, struttura sanitaria privata, visite mediche specialistiche ed odontoiatriche. Cari amici e cari amiche, ben ritrovati in questa nuova puntata di Salute in Prima Linea. Oggi parleremo, come le altre volte, di un argomento molto interessante. Parleremo delle cure palliative. Lo facciamo col caro amico Cosimo De Chirico, un collega che è direttore della Unità Operativa Complessa per le cure palliative dell'AUS4, Regione Veneto, ed è componente del coordinamento regionale Regione Veneto per le cure palliative. Cosimo, grazie infinite di aver accettato il mio invito. Bene, cure palliative. Quindi scendiamo subito ad affrontare questo argomento sugli obiettivi. Gli obiettivi, a parte quali sono, cosa sono, ma soprattutto gli obiettivi delle cure palliative nel nostro territorio, ma anche in generale, credo. Sì, buon pomeriggio, grazie dottor Pizzolitto per avermi dato questa opportunità. Cosa sono le cure palliative e a cosa servono? Intanto diciamo che le cure palliative servono sempre di più, servono sempre di più perché i bisogni della popolazione negli ultimi anni stanno cambiando in maniera significativa perché la popolazione invecchia, aumenta la prevalenza delle malattie croniche, delle malattie croniche che evolvono e il tempo di malattia delle persone anziane, delle persone con queste malattie croniche, aumenta sempre di più perché le cure sono sempre più efficaci. E quindi il numero complessivo delle persone con problemi che si avviano verso la fine della vita sono sempre di più e quindi c'è sempre più bisogno di cure palliative. A cosa servono? Beh, noi diciamo servono per far star bene le persone, in maniera molto sintetica. Cioè, sono cure rivolte a quelle persone appunto che hanno una malattia cronica per cui le terapie specifiche non hanno più grande significato in quanto non sono più in grado di allungare in maniera significativa la vita e quindi a questo punto è molto importante che si garantisca la qualità di vita migliore possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire attenzione ai problemi, ai bisogni delle persone, vuol dire contenere e controllare in maniera efficace il dolore, i sintomi, la sofferenza in generale che non è una sofferenza soltanto, come dire, fisica perché l'incertezza del futuro, la fragilità del momento fa vivere momenti di difficoltà anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista esistenziale e a volte anche dal punto di vista sociale. Quindi le cure palliative si occupano di queste persone non solo, ma anche dei loro familiari perché sappiamo cosa vuol dire avere a casa un malato importante, cosa cambia nell'entourage familiare e quindi non possiamo non tener conto dei bisogni e delle esigenze anche di chi sta a fianco. Già da tempo noi abbiamo forse dato l'esempio a tanti altri colleghi anche a livello del territorio nazionale, ci siamo già organizzati da tempo in questa rete questa rete di rapporti tra di noi medici del territorio, tra voi colleghi organizzatori. Quindi come ci siamo organizzati nel territorio per affrontare queste problematiche rilevanti? Sì, è una domanda molto importante perché c'è una rivoluzione una rivoluzione per quanto riguarda l'organizzazione cioè l'organizzazione dei servizi non è finalizzata a se stessa ma l'organizzazione viene ad essere coerente con i bisogni delle persone non sono le persone che si devono adattare all'organizzazione delle cure ma siamo noi che dobbiamo adattarci alle condizioni del paziente e ai loro bisogni e le loro aspettative. Io ho avuto la fortuna di discutere a livello nazionale, in regione già dopo, vi ricorderete, il fenomeno di Bella nel 1999 poi ci fu la legge Bindi con cui furono finanziati gli interventi per l'attivazione degli hospice e delle reti di cure palliative e quindi allora ci fu proprio questo bisogno di sottolineare l'importanza di dedicarsi a queste persone non solo con prestazioni tecniche, diagnostiche, terapeutiche importanti, coerenti, appropriate ma anche con un modo di porsi nei confronti di queste persone e quindi con relazione di aiuto, con relazione di ascolto con come dire, permettere proprio i malati nelle condizioni più favorevoli di maggior comfort per poter ricevere risposte adeguate. E quindi allora, mi ricordo, io feci parte della commissione nel 2000 Commissione Veneta di cure palliative e oncologia dove impostamo già lì nel 2000 un'organizzazione di rete quindi oggi si parla di reti di cure palliative noi ci abbiamo pensato già 20 anni fa con una prima delibera, la 2989 del 2000 in cui si attribuiva al distretto il compito di ricomporre l'assistenza a tutti i malati mettendo insieme tutte le forze in campo del territorio poi c'è stata nel 2009 la legge regionale Veneta di cure palliative un anno prima della legge nazionale che è del 2010 quindi in Veneto abbiamo lavorato un gruppo in maniera molto intensa devo dire, molto intensa un gruppo multidisciplinare con professionisti dedicati alle cure palliative terapia del dolore, medici di famiglia, psicologi, oncologi allora si parlava soltanto di malattie oncologiche quando ci si riferiva alle cure palliative e abbiamo messo in piedi questa legge che era praticamente precursore della legge successiva quindi del 2010 quella nazionale quella nazionale che è una bellissima legge che dà diritto alle persone di accedere alle cure palliative le persone che hanno bisogno di cure palliative hanno il diritto di accedere e le aziende, le aziende sanitarie hanno il dovere di fornire le cure palliative e quindi c'è stato un salto di qualità in maniera molto importante come ci siamo organizzati? noi abbiamo organizzato un percorso pensato mettendoci in una prospettiva la prospettiva era quella del paziente ci siamo messi a fianco del paziente e abbiamo visto il mondo degli operatori l'organizzazione la sanità e cosa avremmo voluto noi come a fianco dei malati per star bene? allora è evidente che la prima cosa il primo come dire strategia è stata quella di mettere in campo una modalità di assistenza basata sulla presa in carico noi dobbiamo prendere in carico la persona il paziente la sua famiglia e quindi andiamo oltre le prestazioni singole prestazioni che vengono espletate a seconda del bisogno ma prendere in carico vuol dire avere costantemente il polso della situazione andare a casa dei malati anche quando non stanno male anche quando non c'è il bisogno contingente e in questo modo si crea una relazione una relazione molto importante con cui è importante perché? perché bisogna intanto condividere le scelte le terapie che si fanno le cure il luogo di cura va condiviso col paziente e con la famiglia e quindi vanno capiti quali sono i desideri le aspettative delle persone se non si crea una relazione di aiuto una relazione di fiducia è impensabile capire cosa pensa il paziente i familiari cosa desiderano cosa vogliono e quindi la presa in carico implica che cosa implica che un'organizzazione ecco che veniamo al dunque in ogni azienda del Veneto come nelle nostre Rusl4 c'è un'unità complessa di cure palliative vuol dire che c'è un'organizzazione una struttura con un primario un direttore medici infermieri psicologo ma questo gruppo è impensabile che sia sufficiente a coprire i bisogni c'è bisogno di integrarsi ecco che l'interlocutore principale anzi forse saremo noi gli interlocutori dei medici di famiglia voglio dire con i medici di famiglia si lavora insieme le qualità di cure migliori si ottengono quando l'unità di cure palliative con i medici di famiglia collaborano io ho il polso della situazione in Veneto e lo posso dimostrare quando c'è la collaborazione non solo con i medici di famiglia bisogna collaborare con l'ospedale bisogna collaborare con l'oncologia bisogna collaborare con i servizi sociali dei comuni quindi gli enti locali c'era un autore di cui adesso non ricordo il nome che parlando di cure palliative diceva sono la medicina della comunità se noi pensiamo che per ogni paziente che noi assistiamo in media circolano attorno a 100 persone tra amici familiari il farmacista il vicino di casa il prete l'amico medico capite bene che movimento culturale come dire muove un'attività di questo tipo quindi noi dobbiamo intendere le cure palliative anche come una medicina di comunità e come comunità ci si deve aiutare allora l'organizzazione deve essere tale da rispondere ai desideri del malato prima di tutto luogo di cura il malato 9 pazienti su 10 gradiscono essere curati a casa e quindi dobbiamo organizzarci perché questo succeda è evidente che non sempre questo è possibile perché ci sono situazioni complesse in cui c'è bisogno di familiari che siano sempre presenti e questo non è sappiamo benissimo come sta cambiando la nostra società e come è già cambiata con il 30% di famiglie con una sola persona quindi in quel caso noi abbiamo mettiamo in campo l'attività di cure palliative residenziali che è l'hospice e quindi dobbiamo essere in grado di dare un ventaglio di offerte di assistenza al malato teniamo presente per esempio le case di riposo anche le case di riposo che adesso si chiamano centro servizi con gli ospedali di comunità che fra poco nella nostra azienda partiranno ebbene ci sono persone che muoiono nelle case di riposo e quindi bisogna fare cure palliative anche nelle case di riposo allora bisogna collaborare con i medici e il personale delle case di riposo ma anche in ospedale si muore e quindi le cure palliative si devono fare anche in ospedale e sempre con la collaborazione cercando come dire di fare in modo che le cure siano anche sostenibili dal punto di vista economico vedete le cure palliative sono definite come un modello di cure che rende il servizio sanitario nazionale sostenibile perché perché offrono cure di qualità perché sono centrate sui bisogni del malato sono proporzionate in quanto come dire rispondendo ai bisogni ai desideri del paziente si evita da un lato gli estremismi si evita da un lato l'accanimento diagnostico terapeutico che comporta ricoveri prestazioni che non servono che non servono spesso dall'altro lato occorre evitare il cosiddetto abbandono terapeutico quindi ci vogliono le cure giuste fatte al momento giusto nel luogo giusto da questo punto di vista le cure sono come dire gradite ai malati ai familiari e ai costi contenuti ai costi necessari utili per appunto per rispondere a questi a questi bisogni tu sei anche il direttore ad interim del nostro distretto unico della nostra quindi hai anche una visione generale molto più complessa quindi puoi anche darci un po' di un orientamento sui risultati che stiamo ottenendo i risultati ottenuti nel nostro territorio di tutta questa organizzazione così complessa sì beh sono contento di questa domanda perché mi permette di di dire alla comunità che abbiamo del veramente dei buoni non dovrei essere io a dirlo ti ho costretto io ma sono impazienti che devono dirci se lavoriamo bene o no però il lavoro viene misurato viene valutato non viene valutato da noi ma viene valutato attraverso flussi di dati che vanno in regione e da questi flussi di dati pongono l'USL4 ai vertici nella efficacia delle cure palliative nel Veneto e anche in Italia allora da che cosa lo deduciamo dal fatto che la maggior parte delle persone che prendiamo in carico muoiono a casa o comunque vivono a casa sono curate a casa un 70% delle persone che curiamo un 20% delle persone che curiamo vengono trasferiti in hospice e solo un 10% in ospedale e questi sono indicatori che a livello ministeriale vengono considerati gli indicatori gold standard ma a parte la percentuale è il numero assoluto di persone che seguiamo noi nel 2020 abbiamo seguito circa 600 persone abbiamo fornito 42.000 giornate di assistenza a casa rispetto alle 2.000 giornate di assistenza in hospice e alle 2.000 giornate di assistenza in ospedale quindi il 90% del tempo di cura è stato realizzato a casa e questo su questo devo dire grazie al lavoro di tanti i miei collaboratori prima di tutto che devo ringraziare perché veramente moltiplicano gli sforzi perché come dire è un tipo di di attività che richiede la dedizione totale non solo del tempo ma anche del modo di donarsi anche alle persone perché è inevitabile che sia così perché si è coinvolti è inutile si è coinvolti e quindi abbiamo dimezzato la mortalità in ospedale dei malati di tumore abbiamo ridotto dell'80% i trasferimenti dall'ospedale all'ospice e questo perché assieme ai medici di famiglia abbiamo preso in carico i pazienti prima che peggiorassero e questo è un aspetto mi serve un minuto perché è importante dare quest'altra informazione che riguarda l'organizzazione ma anche i risultati tradizionalmente ci si occupava di cure palliative nelle ultime settimane di vita oggi non è così noi ci occupiamo delle persone sulla base dei bisogni a prescindere dalla prognosi oltre il 50% dei malati che prendiamo in carico oncologici sono presi in carico con la formula delle cure simultanee vuol dire che contemporaneamente alle cure oncologiche alla chemioterapia attuiamo le cure palliative perché si è visto che mettendo insieme le due KIP i pazienti stanno meglio vanno meno in pronto soccorso vanno meno in ospedale e guarda guarda aumenta anche l'aspettativa di vita quindi sono come dire vincono tutti win win vincono tutti perché vince anche l'azienda vince il sistema finanziario perché costa meno vincono le persone soprattutto perché stanno meglio stanno a casa proprio e vivono di più ma stiamo meglio anche noi operatori e le cure simultanee richiedono veramente una forte collaborazione con i medici di famiglia perché le facciamo insieme quindi ecco come dire l'organizzazione ancora una volta richiede lavorare in rete insieme tenendo presente quali sono i bisogni del paziente e non i bisogni dell'azienda e devo ringraziare anche la nostra direzione strategica dell'usl4 che ci mette nelle condizioni di poter fare di poter mettere in campo questo tipo di attività una grande attenzione e poi se vogliamo aggiungere anche qualcosa dal punto di vista umano come medico del territorio devo dire che i nostri infermieri domiciliari sono straordinari hanno un consenso presso le famiglie che veramente è indiscusso disponibili a qualsiasi ora del giorno e anche i giorni festivi perché sappiamo che quando li prendiamo in carico anche la domenica e i prefestivi abbiamo queste straordinarie figure bene una riflessione sul futuro come lo vedi il futuro delle cure palliative il futuro delle cure palliative è sicuramente in crescita per le ragioni che dicevo prima io ci sto lavorando con un gruppo dedicato in regione per mettere a punto modello di sviluppo di cure palliative abbiamo recepito un indirizzo dell'intesa stato regioni dell'anno scorso è stato recepito dalla regione veneto attivato un gruppo di lavoro per disegnare le cure palliative del futuro il futuro delle cure palliative si richiude in poche parole ma tanti fatti le poche parole sono fare reti di cure palliative in cui i nodi unità di cure palliative medici di famiglia le cure primarie l'ospedale l'ospice le casse di riposo sono in relazione tra di loro coordinati tra di loro con una come dire strutturazione di un sistema informativo che ci permette di aggiornare costantemente le informazioni che queste circolino cure palliative non solo per i malati oncologici cure palliative precoci per tutti i pazienti che ne hanno bisogno questo vuol dire almeno raddoppiare il numero di pazienti che nel prossimo futuro dovremo intercettare siamo quasi alla conclusione dell'elaborazione del documento posso dare un anticipo sono stato proprio l'altro ieri in regione per definire alcune cose alcuni punti di questo modello e sembra che a novembre noi avremo la delibera e quindi la delibera che dovrà tracciare il futuro delle cure palliative siamo i primi in Italia a produrre questa delibera e quindi dal prossimo anno noi cominceremo a lavorare per l'accreditamento di queste reti l'altra parola magica è accreditamento vuol dire che tutto quello che si fa che si deve fare va documentato certificato quindi non è niente di auto non ci sarà niente di autoreferenziale ci saranno la regione avrà una commissione che verificherà l'operato in tutte le aziende non per controllo ma per aiutare a sviluppare sempre meglio la propria attività tenendo come riferimento il modello che noi produciamo in regione quindi la rete c'è tutta c'è le cure palliative domiciliari c'è l'ospis ci sono le residenze protette l'ospedale di comunità che avrà un ruolo nell'ambito delle cure palliative molto importante uno dei criteri di accesso all'ospedale di comunità è il bisogno di cure palliative l'abbiamo scritto quindi qui nella nostra azienda avremo ospedali di comunità che faranno anche cure palliative medici di famiglia cure primarie insomma ecco rendiamo possibile quella medicina di comunità dimenticavo un nodo importante della rete che noi dobbiamo sempre più implementare e di cui dobbiamo sempre più ringraziare i volontari le associazioni di volontariato e questo lo dico perché lo scritto nell'elaborato del nuovo modello avrà come dire dignità all'interno del gruppo di lavoro chi dirigerà la rete va bene non sarà più soltanto l'unità di cure palliative e questa è una novità ci sarà un organismo di coordinamento della rete di cure palliative in cui farà parte certamente l'unità di cure palliative come motore di tutta la vicenda ma ci sarà anche il medico di famiglia le cure primarie l'ospedale le case di riposo ci sarà il volontariato in modo tale che insieme ogni anno faremo un piano annuale di cure palliative definendo obiettivi risultati e così via come dire è un modo concreto di realizzare quello che dicevo prima che le cure palliative sono e devono diventare sempre di più medicina di comunità bene vedete cari amici che quando qualcuno entra in casa vostra per aiutarvi qualsiasi figura sanitaria e di volontari ha dietro tutta questa storia che vi abbiamo raccontato questo grande sforzo di migliorare tutti i tipi di interventi che saranno messi in atto nelle famiglie vicino a voi e per far star meglio i nostri malati cosa dobbiamo dire al dottor Cosimo del Chirico grazie infinite della tua presenza però non scapperai un giorno ti richiamerò per continuare a parlare per i nostri malati e per star vicino alle nostre famiglie grazie infinite ancora grazie e a voi tutti un abbraccio affettuoso vostro Mario Pizzolitto La qualità dell'aria nell'agricura è importante Linea H+, contro soffitti a tenuta per la salubrità ambientale Atena Innovative Architectural Solutions Poliambulatorio Leonardo Agiai di Gruaro struttura sanitaria privata visite mediche specialistiche ed odontoiatriche